Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Molti di voi mi hanno tartassato le balle, come al solito, quando c'è questa challenge e voi volete sempre, richiedete sempre, le comp da giocare nelle varie mappe. D'altronde, sono felice di fare questo video perché molti di voi, una volta che c'è la sfida, mi taggano nelle storie dicendomi grazie a te, ho vinto e ho superato la sfida. Sono strafelice di questo. Ed è anche carino fare questi video perché come, cioè se voi adesso andate a vedere magari il video della challenge del mese scorso vedrete come il meta effettivamente si è cambiato tantissimo. Quindi è come dire, è qualcosa che rimane impresso nel nostro canale perché ci fa vedere come il meta di fatti cambi durante il tempo. E ok, prima di tutto magari metto un po' di canzoni sottofondo. No dai, andiamo così ragazzi, poi magari si metterò poi nell'editing una canzoncina di sottofondo. E queste qua sono le mappe, di nuovo utilizziamo il sito Daily Metafor Active e bla 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 come si chiama Starlist, questo qua, se volete andare a vedere anche voi. Prima mappa, prima mappa, Hard Rock Mine, mappa classicissima ragazzi, la primissima mappa di Brawl Ball di Brawl Ball, di Brawl Stars intendevo dire. Questa qua la vedete? Ok, carina, è la primissima anche nel gioco, cioè se voi cliccate crea un amichevole è la primissima mappa. Cosa vi consiglio? Semino mid. Semino mid ragazzi è uno dei migliori pick che voi possiate fare perché se avete una Bea contro mid la shottate, se avete una Piper contro mid la shottate, se avete una Penny contro mid la shottate, se avete una Ems contro mid la shottate. Semino mid non solo vi permette di controllare tutto il mid perché sparando da qua appunto con la prima Star Power, ricordatevelo, io vi ricordo anche che se i Brawl non li avete maxati con la sfida in automatico si maxeranno. E prima di continuare il video, anzi perché mi dimentico sempre, io sono sempre bravo e gentile ma lasciate tanti like. Allora se volete la sfida, la sfida, il video sulla prossima sfida, 15 win, 5000 like. Io voglio 5000 like sotto questo video perché so che molti di voi approfitteranno di questo video ma magari lo guardano solo senza lasciare like, non fate i furbetti perché se no non vedete più un altro video. No, dai sto scherzando, cercate di lasciare un po' di supporto e mostrate che questi video effettivamente vi piacciono. No, cerchiamo di avere 5000 like. E ripetiamo, semino mid ragazzi perché con la prima Star Power riesce a beccare chiunque. Non solo chi è in mid, voi utilizzando semino potete aiutare moltissimo anche i lane. I lane sia qua, sia a sinistra che a destra. In un lane vi consiglio poi di utilizzare Ems. Ems ragazzi vi permette, nel caso voi incontriate contro dei tank come Rosa, di dominarli. Quindi Ems io lo giocherei principalmente a destra perché mi ci sono sempre trovato bene nel lane di destra e quindi vi consiglierei principalmente quello. Nell'altro lane potreste andare di un tank, quindi o Rosa o BB. Sono entrambi molto molto buoni. Se volete una roba che consista di più sul controllo, utilizzate Rosa perché magari se la utilizzate a sinistra create vari bush, vedete qua nella mappa, attraverso il suo gadget e la dominate perché solamente creando dell'erba qua e rimanendo fermi lì, gli avversari che si trovano qua ovviamente hanno paura. Gli mettete pressione e ciò vi permette di controllare molto la mappa e permettere al vostro semino o alla vostra Ems di avanzare. Se volete essere invece un po' più aggressivi utilizzate una BB perché la BB cosa deve fare? Spawnare e andare a go go, pushare, pushare chi ha le gemme e continuare a killarlo. A costo anche di morire. Se invece volete ancora più controllo, Mr. P. Però Mr. P è magari un pochino più rischioso perché dopo non avete il tank nella squadra. Quello che deve aggredire gli avversari non ce lo avete. Invece punterete di più al controllo della mappa attraverso i pinguini, attraverso Sprout che becca un po' tutti, idem Mr. P e idem Ems. Questo è il consiglio per la primissima mappa. Vi ho dato un pochino di varie scelte che potreste utilizzare. Scegliete quella che reputate più utile e più forte. E niente. Io vi ricordo che comunque mentre sto registrando questo video, vedete, sono nel canale Viola. Non so se posso mostrarlo, comunque tutti quelli della chat vi staranno salutando. E ok. Andiamo con la seconda mappa, boys. Eccola qua. Pitstop. Peccato che io abbia premuto male. Peccato che io abbia di nuovo premuto male. Pitstop, vabbè, clicco qua che faccio prima. Eccola qua. Pitstop e ist, cioè rapina. Rapina, rapina, rapina è sempre qualcosa di difficile da decidere perché non sai se andare sempre di una comp più di controllo oppure aggressiva a gogo sulla cassa. A sto punto vi do entrambe le scelte e poi voi decidete con quale vi trovate meglio. Se volete andare di full push io vi consiglio principalmente, vi consiglio principalmente una, quindi se volete andare di full push, ripeto, andate di Bibi, andate di Daryl, ovviamente non entrambi nello stesso lane. Bibi va in un lane, Daryl va in un altro e Nita mid. Perché Nita mid? Perché Nita vi permette sia di avere qualcosa comunque per difendere nel caso ce ne fosse bisogno. Ma anche vi permette di essere molto offensivi nel caso una volta che avete l'orso ovviamente di aiutare la vostra Bibi e il vostro Daryl in attacco. Quindi questa è una comp principalmente focalizzata all'attacco. Se volete aggredire e vincere principalmente velocemente la partita utilizzate questa comp. Io vi ricordo Nita non ha senso, ma non ha senso che attacchi la cassa se non ha l'orso. Finché non ha l'orso si occupa della difesa. Una volta che ha l'orso, boom boom boom. Se volete una comp invece un po' più di controllo, cosa significa? Significa una comp che killate gli avversari e avanzate insieme. Se non avete killato gli avversari rimanete comunque a difendere, a contendervi il centro. Questa è una comp un po' più di controllo. Potreste utilizzare una M's mid, che comunque è abbastanza buona. Una Max nel lane che vi permette di sciogliere i tank. Nell'altro lane potete andare di nuovo semplicemente di Nita o di Bibi. Uno dei due. In questo modo non solo avete il controllo, ma avete anche qualcosa con cui attaccare. Questo è il mio consiglio per questa mappa. E ora andiamo con la terza, cioè assedio. Assedio, eccola qua. Per assedio cosa vi posso consigliare? Di nuovo, qua ragazzi, è sempre il meta che comunque mi confonde un po' le idee. Ma io vi posso consigliare una comp abbastanza classica, ma funzionante. È M's, Genio e il primo. Perché è il primo? Perché solitamente potreste beccare Jackie, potreste beccare Bibi, potreste beccare Frank contro. È il primo, ragazzi, è uno dei tank, anzi probabilmente l'unico tank che permette di counterare gli altri tank. Quindi è il primo, ve lo consiglio molto e fortemente. Perché è Genio e M's? Perché sia Genio che M's permettono di dare un sacco di supporto nel raccoglimento dei bulloni. Se non riuscite a prendere un bullone e c'è Genio col grab, il bullone viene a voi. M's invece con la ulti, ragazzi, praticamente occupa tutta l'intera mappa, tutto l'intero centro. Ed è qualcosa quindi di molto utile, non solo per raccogliere i bulloni, ma anche per difendere. Quando avete la ulti con M's e avete un robot che vi sta arrivando addosso, cercate di beccare con la ulti non solo il robot, ma anche gli avversari. In questo modo rallenterete un po' tutti e permetterete alla vostra squadra di guadagnare molto tempo. Se volete andare invece a una comp un po' più classica, potrebbe essere anche rischioso, ma anche allo stesso momento funzionante. Un bar lay mid, una jack in lane e nell'altro lane un altro tank che può essere sempre... Io vi consiglio o BB o il primo. Frank ve lo sconsiglio perché è abbastanza difficile da utilizzare in questa mappa essendoci molti muretti, in questo caso si chiamano alberelli, non sono neanche muretti. Quindi Frank non ve lo consiglio fortemente, nonostante ci sia il gadget di Frank. Se ve la sentite con Frank, però anche Frank può essere un molto molto buon pick. un molto buon pick. Non so se neanche se ho parlato in italiano correggiuto. Ok, andiamo con la... Cos'è sto sgorbio? Il sito qua si sbaglia ragazzi. Canal Grande non è questa. Canal Grande non è questa, quindi ve la faccio vedere dal gioco. Cioè il gioco si è completamente tiltato ragazzi. Allora cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere Canal Grande dal gioco. Ok, eccoci qua ragazzi. Canal Grande, ve lo faccio subito vedere. Guardate, è già qua nelle mappe online, quindi ve lo faccio vedere da qua. Eccola qua la mappa. Non capisco perché il sito l'abbia messo in quel concept lì, un concept così strano. Credo che la mappa fosse così in pass... No, in realtà non era neanche così in passato. Sito buggato. E questa mappa qua... Ok, questa mappa qua vi consiglio principalmente... E... Attenzione, anche qui, essendo che non avete dei ban... Io se volete andare stra safe vi consiglio di andare Jackie... E... Daryl e Poco. Voi vi direte come mai questa comp su Mountie. È aggressiva ragazzi, è aggressiva. E non morite mai. Jackie con i gadget permette di pushare tutti i brawler low che troverete come Piper, come Brock che li double shotta Jackie. E... Attenzione per a pushare i Brock, eh. Perché i Brock saltano e quindi vi potrebbero dare dei problemi. E... Oppure se volete andare un po' più sul classico... Vi consiglio sinceramente... E... A sto punto sempre un Brock. Perché Brock, come vi ho detto, con il saltino permette comunque di dominare molto questa mappa. E di counterare molti di quei brawler toxic. E... Dall'altro... Sempre un altro buon pick può essere Mr. P o Tic. Non insieme, eh. Uno dei due. Perché questi due? Perché permettono di controllare molto bene la mappa. Mr. P con i pinguini e Tic invece con il suo raggio e le sue tremine. Scegliete voi quale vi trovate meglio. Quindi o Mr. P o Tic insieme a Brock. E terzo pick... Mmm... Se andate in Mr. P... Vi consiglio a sto punto una Piper. Una semplice Piper classico. E... E così... Diciamo che una volta che Brock ha la ulti o Piper ha la ulti... Spaccate i muri nel caso avete i tank contro. E la mappa si apre. E ovviamente dovreste dominare abbastanza la scena. Se usate Mr. P vi ricordo di mettere i pinguini dove è più comodo. Dove è più comodo in che senso? Se avete una Piper contro mettete i pinguini sulla Piper. Perché la Piper ovviamente prima che vi shotta i pinguini ce ne mette di tempo. Spreca colpi. E voi avete la possibilità di pusharla. Ok andiamo con l'ultima mappa boys. Ritorniamo nel sito. Eccola qua. Backyard Bow. Uh bella mappa. Mappa completamente aperta. Anche questa ragazzi mappa classica di Brawl Ball. Dovreste conoscerla un po' tutti. E... Stessa cosa qua ragazzi. Non essendoci dei bann ragazzi. Voi ve la potete sempre giocare col poco doppio tank. Poco doppio tank. Il poco dietro. I due tank aggressivi in avanti. Che possono essere BB e Jackie. Questi due tank non nessun altro. Principalmente questi due. Il poco dietro che li cura e boom. Ovvio che voi non sapendo che avversari avrete contro. Non sapendo... Non potendo utilizzare dei bann. E' anche rischioso per utilizzare questa comp. Perché che ne so. Mettete che vi trovate contro una Bea o una Amz. La vostra comp si fa fottere. Per scherzo. Quindi vi consiglio di andare di qualcosa di un po' più safe. Che potrebbe essere appunto qualcosa di più controllo. Come Amz in un lane. Bea o Pam mid. Pam attenzione ragazzi. Straforte. E nell'altro lane. Un Mr. P. Ho detto due volte Mr. P forse. No ho detto... Ho detto... No. Ho detto Amz. Pam. Mr. P. In questo modo qua ragazzi. Non solo avrete un controllo della madonna. Ma avrete anche abbastanza danni. Da tirare giù i tank. Nel caso vi beccaste contro. Appunto una comp toxic. Siccome poco doppio tank. Amz ragazzi sapete che è praticamente il brawler anti tank. Per modello. Cioè per definizione. Quindi una volta che avete la ulti ovviamente poco doppio tank non vi può fare nulla. I gadget teneteli nel caso vi beccate una Jackie contro. E direi che siete a posto. Il video quindi ragazzi termina qua. Queste sono le comp per la 15 win challenge. Nel caso riuscite a passarla con queste comp. Quindi grazie ai miei consigli. Fatemelo sapere. O nei commenti. O tramite una storia Instagram. Magari mi metto a ripostarle un po' tutte. Io vi ringrazio per aver visto il video. Vi ricordo di seguire tutti i link in descrizione. Canale Viola. Primo link in descrizione. Streaming ogni giorno. Ci becchiamo domani. Anzi no. Ci becchiamo oggi in stream. Sempre sul canale Viola. E speriamo che il Brawl Talk ci abbia dato delle belle notizie. Io non l'ho ancora visto. Voi le avrete già visto. Speriamo in beni. Cruciamo le dita. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.